Per quanto riguarda le curiosità e le leggende della cattedrale di San Lorenzo, il rivestimento a strisce bianche e nere della facciata era una particolarità amata dalle famiglie nobili genovesi, i dori e i fieschi, i spinoli e i grimaldi. Nel 1840 fu costruita la scalinata frontale caratterizzata da due leoni marmorei ai lati, fu abbassata e ampliata la piazza per integrarla con via San Lorenzo, che collega questo luogo al centro della città con il porto. Sulla facciata della cattedrale si nasconde la scultura di un cane, leggendariamente si pensa che sia stata scolpita da uno degli scultori a cui durante i lavori era morto uno e voleva ricordarlo. All'interno si trova una granata navale inglese da 381 mm che non esplose e che il 9 febbraio 1941 colpì la chiesa. Si dice che la basilica sia la casa degli spettri di Genova e alla mezzanotte della vigilia di San Giovanni Battista il 23 giugno una statua dalla facciata detta la rotina si anima per aprire il portale della navata centrale da dove entrano in silenzio tutti gli spettri dalle mie stanze che presero parte alla costruzione. Si dispongono in un lungo corteo e lentamente salgono la cupola e sino alla croce. La processione dura un'ora durante la quale ogni fantasma controlla la condizione della sua opera, dopodiché si dissolve nella notte.